Sono molto felice di trovare un posto che ho lasciato qualche anno fa, ma sono proprio molto contento. È stato piacevole ritrovare sia Gabbia che Gigio, è stato piacevole ritrovarli dopo qualche anno. Tanta voglia di dimostrare cosa ho imparato e cosa ho fatto in questi anni. È sicuramente più maturo di come è andato via. Sicuramente seguino tanto i consigli ma è dei compagni più vecchi mettendomi subito a disposizione della squadra dove serviva. Nel particolare mi sono focalizzato di più su rimanere sempre concentrato tutto nell'arco della partita e cercare di tenere il mio apporto anche in fase offensive. Sono un giocatore abbastanza fisico che fa dell'intensità un po' la sua forza e cerco sempre di accompagnare l'azione. Sono abbastanza a mio agio quando vado al tiro, quando vado in aria e qualche soddisfazione me la sono tolta. Con la terrana magari qualche cosa me lo sono anche mangiato, però l'anno scorso sono stato più cinico e più incisivo. Cambia tanto perché è un altro modo anche proprio di vivere tutti i 90 minuti, però quando ti ci metti a pieno ci si abitua e inizi magari ad apprendere anche alcune cose, qualche samotage e te la giochi con tutte le tue carte. Sicuramente nel settore giovanile i consigli di tutti gli allenatori e dei giocatori che sono passati e sono approdati in prima squadra aiutano. Però poi ognuno sta a trovare anche la sua dimensione, il suo percorso, che ormai potrebbe essere il mio che è stato con qualche tappa intermedia. Qualcuno magari ha bruciato le tappe, ha accelerato e ha fatto subito il passo in prima squadra, però ognuno dopo trova il suo percorso. È stata forte perché l'ho vista spesso dall'altra parte, dall'ospettatore della primavera, l'ho visto spesso, però entrare nello spettatore della prima squadra è stato molto emozionante.